L'associazione Insieme per Giuncatelle con il patrocinio del comune di Monte Corice è pronta per la terza edizione di Movene Natale. Le festività natalizie a Giuncatelle cominceranno domani 30 novembre fino al primo dicembre dove in piazza Domenico Antonio Franciulli ci saranno vari eventi come mercatini artigianali di Natale, musica dal vivo, animazione, la tombola vivente ed inoltre sarà possibile degustare vari prodotti enogastronomici. La manifestazione comincerà domani alle ore 15 e 30 con l'addobbo dell'albero di Natale e continuerà con un'esibizione musicale di Alessandra Maffia ed una di ballo a cura della body dance. Inoltre parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza per il piccolo Chicco. L'associazione Insieme per Giuncatelle non è nuova a questi eventi, infatti in estate si svolge i Chiani in Festa, una manifestazione con musica dal vivo e con tanti prodotti enogastronomici da degustare, il cui ricavato viene devoluto per la ristrutturazione della chiesa del paese.